Io cerco te Io cerco te Io cerco te Come scrive anche Tanfucio, gli scacchi sono lo sport più violento ma silenzioso. Quindi, in ottemperanza agli ultimi decreti della Repubblica Pisana sui decibel e il decoro natalizio, anche quest'anno Scacchi Insorgenti presenta B-Chess, scacchi alla spiaggetta. Ogni mercoledì alle 21.30, ad Argini e Margini, Lungarno Galilei, Scalo dei Renaioli. Io cerco te Io cerco te Io cerco te Qualcuno di cui non diranno, mi sa bene sia certo lo spettacolo umano più bello che mi sia stato dato Iussanasip Akilbuker Ogni mercoledì alle 21.30, ad Argini e Margini, Lungarno Galilei, Scalo dei Renaioli.